Bene amici, oggi, oggi in volo più alto del solito e l'ho preso perché sto provando l'Ulephone Gemini doppia cam, 3 giga di ram, come va? Come va? Ve lo dico tra poco nella recensione, ma ormai, ma ormai lo sapete anche voi, ma dai, venite con me Guardiamocela comunque E sulla confezione, vedete, campeggia la doppia fotocamera, incidente diplomatico con un telefono che, attenzione, non è l'iPhone ma gli assomiglia Ovviamente un altro cinesone, in confezione cosa c'è? C'è la coverina in silicone, devo dire fatta bene, simpatica, anche morbida Poi abbiamo il caricabatterie da 1.5A, ci mette un pochino a caricare il telefono, è due e mezza barra 3 Poi il cavo dati è un normalissimo cavo dati e poi questo anello Bah, è un telefono cinese, viste le dimensioni della popolazione, si potrebbe usare per giochi erotici No, non fatelo, è troppo piccolo alle nostre latitudini, ci ho studiato veramente una vita e poi ho scoperto a cosa serve Guardate a cosa serve, lo si può appiccicare qua dietro, proprio sulla scritta Ulephone Così i vostri amici non sapranno che è un Ulephone, si lo sapranno perché c'è scritto anche qua Vabbè, purtroppo, ma per tenerlo meglio e quindi uso una mano assicurato da un meccanismo meccanico Vabbè, fantastico, buttiamo via anche quello e accendiamo il telefono Ha un pulsante fisico che consente anche di sbloccarlo con l'impronta digitale Ha varie gesture, poi le andremo a vedere Ma una cosa che volevo farvi vedere, è molto simpatica questa traduzione Attenzione che il super risparmiatore è vicino Non so se un monito o cosa, in realtà è una traduzione un po' fantasiosa per entrare nel risparmio energetico Vabbè, metallo per tutto il frame, pesantuccio, 185 grammi Però ben fatto, dietro c'è una simmetria, mi piace, doppia camera, 13 più 5 che interpola a 8 Le due fasce in plastica per le antenne E una particolarità che a me non è piaciuta tanto Ci vuole un po' di abitudine Perché i pulsanti accensione e volume sono messi al contrario rispetto a tutti gli altri telefoni che sono qua a destra Qua a destra cosa c'è? Il pulsante per l'accesso rapido alla fotocamera Ma non è un pulsante di scatto, non ha la doppia corsa È solamente un click E poi abbiamo qua il carrellino Dove può trovare posto o una nano sim più una micro sim Oppure una sim più una micro SD Altoparlante, microfono, il jack Lo andiamo ad accendere Davanti non c'è purtroppo il led di notifica La ROM è la solita ROM che troviamo su tutti i telefoni con processore medico E qua abbiamo 6737, 3GB 32 di memoria integrata più la SD Non abbiamo grosse particolarità, se no ve le faccio vedere subito Le gesture con il fingerprint Qua ce ne sono un pochino che possono funzionare Qua torna al livello precedente semplicemente facendo un tap Lo vedete, con il click torniamo alla home page Oppure una cosa un po' assurda Ovvero la possibilità di scorrere il desktop Semplicemente cliccando Vedete col doppio click torniamo dall'altra parte Invece con questo click andiamo da questa parte Se teniamo premuto a lungo entriamo nel multitasking Io torno così Si possono anche far tornare i pulsanti a schermo Devo dire comodo Non mi piace tanto il feed di questo click Che non è il massimo Non c'è l'NFC Wi-Fi dual band Però avete visto dalle prove di scaricamento dati Non è velocissimo Il display è un 5,5 pollici Full HD Un filo poco oleofobico È il solito IPS È buono Gli angoli visuali sono un po' così così I colori forse sono tarati un pochino sul pallido C'è la possibilità di comunque di tararli manualmente Ma non si esce mai a trovare una tartura perfetta Neri Un filino grigini Insomma Il solito display che troviamo su questo tipo di smartphone Abbiamo i temi Se teniamo premuto a lungo Vedete possiamo qua andare a modificarli Non sono online Sono solamente questi che troviamo qua La possibilità dell'allineamento I widget o gli sfondi È una ROM senza drawer Quindi tutte le applicazioni sono qua Vedete Il launcher è velocissimo Poi quando andiamo ad aprire le applicazioni E facciamo subito il trittico Bisogna aspettare un pochino Adesso questa era in memoria Quindi si è aperta alla velocità della luce Allora facciamo così Richiudiamo tutto Perché questa volta per far vedere quella simpatica scritta iniziale Non ho riavviato il telefono Comunque ormai abbiamo imparato che questi telefoni Non hanno problemi nell'apertura delle applicazioni Vedete per esempio anche Twitter L'unica cosa che ripeto non è fulminio ad aprirle Però voglio dire problemi non ne dà Apriamo anche il gestore delle pagine Facebook Così vi faccio vedere anche la tastiera Perché sulla tastiera ho qualcosa da dire Vedete quando si apre è un pochino legnoso Bisogna aspettare un attimino Un pochino tra virgolette gommoso Andiamo qua a pubblicare qualcosa Io ovviamente ho messo la tastiera stock di Google È un telefono che porta a digitare abbastanza lentamente a questa velocità Perché se si inizia ad andare troppo veloce Il display non prende benissimo i tocchi E quindi c'è qualche difficoltà Attenzione non sto dicendo che non si riesca a scrivere Ma che non si può scrivere in maniera fulminia C'è lo swipe giù per aprire le notifiche C'è la banda LT800 C'è il Play Store preinstallato Quindi dal punto di vista funzionalità È un telefono pronto out of the box Apriamo Non volevo fare così E vi faccio ascoltare la telefonata Allora devo dire che la chiamata non è male Sia la dicezione la trovo in media Anche l'audio in media Avevo voce in media Un po' bassino ma non è quello il problema Il problema è che come su tanti tanti telefoni Di questo tipo il sensore di prossimità È messo qua dietro ma forse non sente bene È un po' storto non so cos'è Insomma con l'orecchio Quando lo utilizziamo per le chiamate Spesso si vanno a toccare cose E ci si trova con 20 menu aperti Vi parlo del browser web Non vi parlo del browser web Alla fine va come su tutti i telefoni Con questo processore Va bene va bene Guardate sì qualche lagma Nell'uso quotidiano Chrome Gira sufficientemente bene 26 secondi per aprire Real Racing Poi ok Vi faccio vedere l'interfaccia Della fotocamera Eccola qua Andiamo a vedere come facendo uno swipe Vedete si passa da video a fotografie Bellezza video Panoramica e SLR Cosa vuol dire SLR? La funzionalità della doppia fotocamera Che mette a fuoco il soggetto E sfocato lo sfondo Non è che funzioni proprio tantissimo Si può aumentare o diminuire Qua vedete l'effetto Qua c'è la doppia fotocamera Boh non lo so ragazzi Non mi ha convinto particolarmente Le funzioni manuali sono in un sottomenu Quindi non facilissime da trovare Radio FM Ma andiamo a vedere come scatta le foto Andiamo qua nella fotocamera Partiamo da qua E vi faccio vedere Prima di tutto Al buio le foto sono così così È la situazione in cui soffre di più Poi abbiamo qua un primo piano Dove si vede molto molto La qualità del sensore Solamente nelle macro Perché se andiamo a vedere Ecco anche questa pizza fantastica Ho già recensito questo posto Trick track a legnano Ci torno sempre volentieri Mentre quando andiamo a fare foto Con un po' meno luce e panoramiche Beh qua veramente perde tanta qualità Con poca luce Guardate questa foto fatta A casa veramente scandalosa Col flash un pochino meglio Questo è il mio dentista Questo sono io Un dentista 2.0 Guardate mi ha fatto rivedere Praticamente tutta l'otturazione In diretta sul suo schermo Insomma che dirvi Foto bene o non benissimo Direi HDR che non serve assolutamente a niente Guardate questa foto fatta con HDR Questa senza HDR Io non trovo la differenza E i video seguono un pochino le foto Insomma lento l'autofocus Zoom sgranato Nel frattempo stanno trapanando L'impossibile qua nel mio ufficio Ma io non mi fermo Vado avanti Perché comunque dobbiamo solo dare le conclusioni Prezzo che dà un senso a questo telefono Perché costa circa 130 euro Una cosa mi stavo dimenticando La batteria adesso Che mi è venuta in mente E che finché non mi precipita Un muro che ho le mie spalle in testa Ve la posso far vedere È un telefono che ha un comportamento Veramente discontinuo Guardate in stand by consuma poco Quando solo si inizia a utilizzarlo Precipita la batteria Io sono arrivato col mio stile Col mio uso Alle 19 alle 20 Con 3 ore di display Ma è un telefono che dipende veramente Come lo usate Visto che sono calmati col trapano Vi faccio ascoltare Bublé Tra l'altro le solite applicazioni Vecchissime Dell'interfaccia Di questo android Di mediatek Alziamo il volume Vediamo se riusciamo a superare Il rumore del trapano In questo momento si è zittito Sì Sì L'abbiamo superato Ma il volume purtroppo Non è altissimo Quindi se L'avessi fatto andare insieme al trapano Avresti sentito solo il trapano Dicevo Un telefono pronto Con banda LT800 130 euro dagli store cinesi Con Play Store Va Come va Va come più o meno tutti i cinesi Con qualsivoglia quantitativo di RAM Con qualsivoglia Mediatek Con qualsivoglia numero di megapixel E con qualsivoglia numero di fotocamere Boh Mistero dei cinesi Ci vediamo su